Taglio del nastro per la stagione estiva di Marina Iulia, che quest'anno si presenta al pubblico con tante novità. Monfalcone prepara la sua estate. Con l'inaugurazione della nuova area di Beach Volley a Marina Iulia, è venuta sotto un sole decisamente promettente e partita la stagione estiva del comune di Monfalcone, che quest'anno può vantare numerose iniziative mirate in particolare al rilancio turistico dell'intera cittadina. Visto che ci avviciniamo all'estate, sottolinea il sindaco Anna Maria Cisint, l'attrattività riguarda principalmente Marina Iulia e tutto ciò che si può fare vicino al mare. Abbiamo acquistato il parcheggio di Marina Iulia e lo abbiamo messo a posto. Abbiamo comprato i giochi, continua Cisint, eseguito le pulizie della spiaggia ed effettuiamo la raccolta delle immondizie ogni giorno, anche la domenica, per avere una zona completamente pulita. Per lo sport poi abbiamo creato un campo di Beach Volley e di Kitesurf, utilizzabile anche d'inverno. C'è da ricordare che il campo monfalconese per il Kitesurf, a differenza di quello gradese, ha un vento che spinge gli appassionati dal largo verso la costa e non al contrario, come accade all'Isola del Sole. Avviata con il campionato nazionale di vela d'altura, partito mercoledì 21 con due regate, 600 persone di equipaggio e 76 barche iscritte, la stagione estiva che si concluderà con la barcolana. Noi fino a settembre abbiamo organizzato eventi distribuiti in tutto il territorio cittadino, continua il sindaco, per far tornare Monfalcone, un polo centrale all'interno della regione, dando anche ampio respiro al commercio.